Ciao a tutti e benvenuti a questa prima lezione del diciannovesimo capitolo che si intitola Il raggiungimento della pace. Andiamo a vedere allora la prima lezione di questo capitolo che è intitolata Guarigione e fede e andiamo a vedere cosa ci dice oggi questa lezione, cosa ci dice oggi il corso a proposito di questa lezione. Il corso dice, abbiamo già detto, che quando una situazione è stata dedicata interamente alla verità la pace è inevitabile. Il suo raggiungimento è il criterio col quale si può supporre con sicurezza che la dedizione è totale. Ma abbiamo anche detto che non si raggiungerà mai la pace senza la fede perché ciò che viene dedicata alla verità come suo unico obiettivo è portato alla verità attraverso la fede. Questa fede abbraccia ogni persona coinvolta perché solo così la situazione viene percepita come significativa e nella sua interezza e tutti devono essere coinvolti o altrimenti la tua fede è limitata e la tua dedizione incompleta. Allora visto il primo paragrafo io farei un piccolissimo appunto. la fede oltre tutte le spiegazioni e tutte le varie descrizioni non è altro che il sapere, il conoscere. Quando tu sai hai fede che sei sicuro di ciò che sai. Pensate che la scienza ha scoperto di recente che noi con i nostri cinque sensi del corpo vediamo soltanto il 4% della realtà. Ok? E il 96% non lo possiamo vedere con i nostri occhi ma lo possiamo percepire con il nostro spirito. il nostro spirito sa tutto. Il nostro spirito che è la nostra vera essenza tu sei spirito pura coscienza sa già tutto perché è connesso con tutto e parte del tutto e sa che non ha nessun limite e nessuna mancanza assolutamente. Vediamo l'altro paragrafo. Ogni situazione percepita nella maniera corretta diventa un'opportunità per guarire il figlio di Dio ed egli viene guarito perché gli hai offerto la tua fede affidandolo allo spirito santo e liberandolo da ogni pretesa che il tuo ego vorrebbe fargli soddisfare. Così lo vedi davvero libero ed è questa la visione che lo spirito santo condivide e dal momento che egli la condivide l'ha donata e così guarisce tramite tuo. Questo unirsi a lui in un intento comune rende reale questo scopo perché tu lo hai reso intero. Questa è la guarigione. Il corpo viene guarito perché sei venuto senza di esso e ti sei unita alla mente nella quale risiede ogni guarigione. Ci dice questo ultimo paragrafo questa ultima riga che siamo guariti e dice sei guarito quando vieni senza il tuo corpo cioè quando tu non ti associ più al tuo corpo quando non ti vedi più come corpo allora sei guarito. Quando tu inizi a vederti come non solo un corpo ma che hai questo strumento questo corpo è tuo in questo momento ok allora inizi a guarire quando quando inizi a percepire che sei qualcosa di più. Il corpo non può guarire perché non può rendersi malato non ha bisogno di alcuna guarigione. La sua salute o malattia dipendono interamente da come la mente lo percepisce e dallo scopo per cui la mente lo usa. È ovvio che un segmento della mente può vedersi separato dallo scopo universale. Quando questo si verifica il corpo diventa la sua arma usata contro questo scopo per dimostrare il fatto che si è verificata la separazione. Il corpo diventa così lo strumento dell'illusione e agisce di conseguenza. Vede quello che non c'è sente ciò che la verità non ha mai detto e si comporta in modo fole essendo imprigionato dalla follia. Allora cosa ci dice questo paragrafo? Ci dice che praticamente la mente usa il corpo ma non tutta la mente. Cosa dice? Un segmento della tua mente. Che sarebbe? Leggo giustamente. Non trascurare la nostra precedente affermazione secondo cui l'assenza di fede porta diritto alle illusioni perché la mancanza di fede è la percezione di un fratello come un corpo e il corpo non può essere usato per scopi di unione. Se dunque vedi tuo fratello come un corpo hai stabilito una condizione nella quale unirte a lui diventa impossibile. La tua mancanza di fede nei suoi confronti ti ha separato da lui e ha impedito ad entrambi di essere guariti. La tua mancanza di fede si è quindi opposta allo scopo dello Spirito Santo e ha portato illusioni centrate sul corpo che si sono frapposte fra di voi e del corpo sembrerà essere malato perché ne hai fatto un nemico della guarigione e l'opposto della verità. Non può essere difficile rendersi conto che la fede deve essere l'opposto della mancanza di fede. Tuttavia la differenza su come operano è meno evidente anche se deriva direttamente dalla differenza sostanziale di ciò che sono. La mancanza di fede limiterà ed attaccherà sempre. La fede eliminerà ogni limitazione e renderà interi. La mancanza di fede distruggerà e separerà. La fede unirà e guarirà. La mancanza di fede interporare le illusioni tra il figlio di Dio e il suo creatore. La fede eliminerà ogni ostacolo che sembrerà immergere tra di loro. La mancanza di fede è totalmente dedicata alle illusioni, la fede alla verità. La dedizione parziale è impossibile. La verità è l'assenza dell'illusione, l'illusione l'assenza della verità. Non è possibile che ci siano entrambe né che siano percepite nello stesso posto. Dedicarti a entrambi significa stabilire un obiettivo che non potrà mai essere raggiunto perché parte di esso viene ricercato attraverso il corpo, concepito come mezzo per cercare la verità attraverso l'attacco. L'altra parte vuole guarire e pertanto invita la mente e non il corpo. Il compromesso inevitabile è il credere che sia il corpo e non la mente a dover essere guarito perché questo obiettivo diviso ha dato ad entrambi un'uguale realtà che sarebbe possibile solo se la mente fosse limitata al corpo e divisa in piccole parti apparentemente intere ma senza collegamento fra loro. Questo non danneggerà il corpo ma manterrà nella mente il sistema di pensiero delirante. È qui dunque che c'è bisogno di guarigione ed è qui che si trova la guarigione perché Dio non ha dato la guarigione separata dalla malattia e non ha stabilito un rimedio dove non può esserci malattia. Esse stanno insieme e quando vengono viste insieme ogni tentativo di mantenere sia la verità che l'illusione nella mente, dove entrambe devono essere, viene vista come dedizione all'illusione. Quando viene portata la verità vi si rinuncia e viene visto come totalmente inconciliabile con la verità sotto ogni aspetto o in ogni modo. Verità ed illusione non hanno alcun collegamento. Questo rimarrà vero per sempre indipendentemente da quanto tu cerchi di collegarli ma le illusioni sono sempre collegate come lo è la verità. Ciascuna è unita, un sistema di pensiero completo ma è totalmente sconnesso dall'altra. Percepire ciò significa riconoscere dov'è, dov'è la separazione e dov'è deve essere guarita. Il risultato di un'idea non è mai separato dalla sua fonte. L'idea della separazione ha prodotto il corpo e rimane collegato ad esso rendendolo malato a causa dell'identificazione della mente con esso. Tu pensi di proteggere il corpo nascondendo questo collegamento perché questo occultamento sembra mantenere la tua identificazione al sicuro dall'attacco della verità. Se tu soltanto capissi quanto questo strano occultamento abbia danneggiato la tua mente e come a causa sua sia diventata confusa la tua identificazione. Tu non vedi quanto è enorme la devastazione operata dalla tua mancanza di fede perché la mancanza di fede è un attacco che sembra essere giustificata dai suoi risultati perché se non offri la fede vedi ciò che ne è indegno e non puoi guardare oltre la barriera ciò che è unito a te. Per fede e guarire è il segno che ha accettato l'ispiazione per te e che pertanto la condividerai. Attraverso la fede offri il dono della libertà dal passato che tu hai ricevuto. Non usi nulla di ciò che tuo fratello ha fatto in precedenza per condannarlo ora. Scegli liberamente di guardare al di là dei suoi errori guardando oltre tutte le barriere che si frappone tra te e lui e vedendole come una cosa sola ed in questa sola vedi che la tua fede è pienamente giustificata. Non c'è giustificazione alla mancanza di fede mentre la fede è sempre giustificata. La fede è l'opposto della paura in quanto è parte dell'amore come la paura lo è dell'attacco. Fede è il riconoscimento dell'unione è il grazioso riconoscimento di chiunque come figlio del tuo amorevollissimo padre amato da lui come te e pertanto amato da te come te stesso. E' il suo amore che unisce te e tuo fratello e per il suo amore non manterrai nessuno separato dal tuo. Ciascuno appare proprio come viene percepito nell'istante santo, unito nel tuo scopo di essere liberato della colpa. Tu vedi Cristo in lui ed egli viene guarito perché tu vedi ciò che giustifica per sempre la fede in tutti. La fede è il dono di Dio attraverso colui che Dio ti ha dato. La mancanza di fede vede il figlio di Dio e lo giudica indegno di perdono. Ma attraverso gli occhi della fede il figlio di Dio viene visto già perdonato, libero da ogni colpa che hai posto su se stesso. La fede lo vede solo ora perché non guarda il passato per giudicarlo ma vede in lui solo ciò che vede in te. Non vede con gli occhi del corpo né guarda i corpi per giustificarsi. È la messaggera della nuova percezione inviata per raccogliere testimonianza della sua venuta e per riportare a te i loro messaggi. La fede può essere facilmente cambiata in conoscenza come il mondo reale perché la fede nasce dalla percezione dello Spirito Santo ed è il segno che la condividi con lui. La fede è un dono che offre al figlio di Dio attraverso di lui ed è interamente accettabile da suo padre come da lui e quindi ti viene offerta. La tua relazione santa con il suo nuovo scopo ti offre la fede perché tu la vi ha separati e così non riconosci la salvezza in lui. Tuttavia la fede vi unisce nella santità che vedi non attraverso gli occhi del corpo ma con la vista di colui che vi ha uniti e nel quale siete uniti. La grazia non viene data a un corpo ma ad una mente e la mente che la riceve guarda istantaneamente oltre il corpo e vede il luogo santo dove è stato guarita. Lì è l'altare dove è stata data la grazia e nel quale risiede. Offri quindi grazia e benedizione a tuo fratello poiché sei davanti allo stesso altare dove la grazia è stata riposta per entrambi e siete guariti insieme dalla grazia perché possiate guarire attraverso la fede. Nell'istante santo tu e tuo fratello siete davanti all'altare che Dio ha elevato a se stesso e a voi due. Mettete da parte la mancanza di fede e venite adesso insieme. Lì vedrai il miracolo della tua relazione come è stata nuovamente fatta attraverso la fede ed è lì che ti renderai conto che non c'è nulla che la fede non possa perdonare. Nessun errore interferisce con la sua visione calma che porta al miracolo della guarigione con uguale facilità a tutti loro perché i messaggeri dell'amore fanno ciò che sono mandati a fare riportando la lieta novella che la guarigione è avvenuta in te e in tuo fratello che state insieme davanti all'altare dal quale sono stati inviati. Così come la mancanza di fede manterrà i vostri piccoli regni vuoti separati così la fede aiuterà lo spirito santo a preparare il terreno per il santissimo giardino che egli ne farà perché la fede porta pace e così fa appello alla verità perché vi entri e renda amorevole ciò che era già stato preparato per l'amorevolezza. La verità segue la fede e la pace completando il processo di rendere amorevole ciò che essi iniziano perché la fede è ancora un obiettivo di apprendimento del quale non c'è più bisogno nel momento in cui la lezione è stata presa ma la verità resterà per sempre. Fa dunque che la tua dedizione sia rivolta a ciò che è eterno e impara a non interferire con essa e a non renderla schiava del tempo perché ciò che pensi di fare a ciò che è eterno lo fai a te. Colui che Dio ha creato come suo figlio non è schiavo di nulla essendo il Signore di tutto insieme al suo creatore. Tu puoi rendere schiavo un corpo ma un'idea illibera incapace di essere tenuta in prigione o limitata in alcun modo eccetto che della mente che la posta perché rimane congiunta la sua fonte né il carceriere o il liberatore a seconda di cosa sceglie come suo scopo per se stessa. Ed eccoci qui che siamo arrivati alla fine di questa prima lezione sulla fede. Io mi fermo qui vi auguro una bellissima giornata e vi aspetto con la prossima lezione. Ciao a tutti e a tutti voi una bellissima giornata.